Ciao a tutti ragazzi, come andiamo? Bentornati sul canale Times Gadget. Come avrete sicuramente capito dal titolo e dalla copertina, anch'io quest'anno ho fatto la mia spesa, ho fatto il mio investimento, se così vogliamo dire, e ho comprato il nuovo Galaxy ZA2 Fold, un dispositivo davvero molto molto interessante. Mi è sempre piaciuto questo dispositivo, questo tipo di pieghevole. Lo volevo comprare anche l'anno scorso, direttamente col primo modello, ma dopo ho notato i vari problemi dello schermo interno. Quando l'ho provato ho notato che lo schermo esterno era un po' troppo piccolo e nell'utilizzo quotidiano secondo me era un po' limitato, seppur comunque ho apprezzato il grande lavoro che ha fatto Samsung e quindi ho deciso di aspettare il secondo modello. Quest'anno, quando l'ho visto, quando l'ho potuto provare di persona con mano, vi ho lasciato le foto su Instagram, devo dire che ne sono rimasto altamente soddisfatto. Un dispositivo davvero molto molto bello. Sono stato sempre attratto da questi pieghevoli. Per quale motivo? Perché voi la sapete come la penso. Negli ultimi 3, 4, anche 5 anni il mercato degli smartphone è stato sempre più piatto. Ormai si è appiattito del tutto. Pochissime aziende sono riuscite a rinnovare e comunque a presentare qualcosa che potesse un po' stuzzicare la fantasia, potesse un po' stuzzicare anche l'interesse. Perché alla fine stanno solamente facendo una gara a chi fa lo schermo più grande e a chi mette più camere sul posteriore. E invece devo dire che la Samsung, insieme anche a Motorola, con i suoi Razor, anche ultimamente LG, stanno proponendo qualcosa di differente. Fra questi smartphone, quello che ho preferito e che preferisco attualmente per l'utilizzo quotidiano, per me è il Fold Z2 perché diciamo che quando si chiude è un telefono, però poi quando lo si apre, seppur comunque le dimensioni non sono ridotte come il Razor o come anche il pieghevole lo Z Flip, devo dire però lo schermo è molto più grande. Quindi mi ha sempre un po' entusiasmato questa cosa. E quest'anno non vedevo l'ora di prenderlo. L'ho preso in colorazione Mystic Black e adesso non vedo l'ora di farvelo vedere e di aprirlo insieme perché ancora non l'ho aperto, quindi adesso ci mettiamo sul banco delle prove e andiamo a fare questo unboxing di questo nuovo Galaxy Z2 Fold. Ciao! Ed eccoci qua ragazzi con il nostro Galaxy Z2 Fold spacchettato ma anche acceso e col fatto che la voce sono approfittato perché mi ha fatto inserire già subito i dati e gli account e come molti di voi sapranno, se utilizzate Smart Switch di Samsung per passare i dati da un Samsung a un atto Android o perlomeno dal vecchio vostro smartphone a un nuovo Samsung è davvero cosa molto facile, è brevissima, è veloce e quindi vi importa tutti i dati con un attimo. Infatti mi ha settato perfino il wallpaper che avevo ultimamente sul Note 20 Ultra. Questa di oggi non vuole essere una recensione ma vuole essere solamente un'anteprima, una mia prima impressione. Ve le metterò a fianco anche per farvi vedere un po' le dimensioni, i confronti dimensionali, anche il peso e anche un po' i display. Però prima di andare a vedere nel dettaglio questo Z2 Fold vi volevo ricordare che nella confezione di vendita il caricatore da muro che vi esce ha una ricarica rapida da 25 Watt, mentre la ricarica wireless veloce che abbiamo qui all'interno del Z2 Fold è la mettesima del Note 20 Ultra ed è da 15 Watt. Andiamo adesso a vedere un po' il design e come è fatto questo Z2 Fold. Allora, a me mi è sorpreso perché devo dire davvero una grande qualità costruttiva. Quando l'abbiamo piegato, quando ce l'abbiamo chiuso è chiaro che lo spessore si fa sentire, si fa vedere. Qui abbiamo il secondo speaker perché il primo, quello principale, ce l'abbiamo qui sotto. Porta USB-C Type-C 3.1, chiaramente OTG perché esce anche in video per Samsung Dex, cosa che ce l'abbiamo anche in wireless. Qui sotto abbiamo il primo microfono, secondo microfono qui nella parte in alto. Abbiamo tutto il frame che è tutto in alluminio satinato nero, davvero bellissimo, una cosa che mi è piaciuto tantissimo. Il carellino per la single SIM microSD come espansione di memoria e perché abbiamo anche la dual SIM grazie alla compatibilità con la iSIM, quindi con la SIM virtuale. Abbiamo qui da questa parte il frame, guardate come fa, che tipo di gioco, il design davvero molto bello perché abbiamo e vado ad abbracciare il bilancio del volume e il tasto di accensione e spegnimento con sensore di impronte che già ho settato perché me l'ha fatto settare all'inizio. Qui dietro un comparto interessante di fotocamere perché abbiamo tre fotocamere da 12 megapixel, la prima quella principale da f1.8, la seconda 2.2, la terza che è lo zoom, semplicemente 2x da 2.4. Infatti questo qui diciamo che è un comparto molto simile a livello di design alla serie dei Note 20 Ultra o dei Note 20, però comunque è chiaro che qui la Samsung non ci è concentrata sul reparto fotografico, seppur è un ottimo reparto fotografico e un buon comparto, ma non abbiamo lo zoom periscopio 5 o 10x. Frontalmente abbiamo un bellissimo display che finalmente si è andato ad allargare, questo qui è una cosa che mi è piaciuta tanto, un display veramente grande, utilizzabile, molto utilizzabile con una mano, per quale motivo? Perché è molto sottile, è molto stretto e quindi guardate qui in pianta quant'è la differenza con un Note 20 Ultra, ve li metto in pianta, guardate qui che tipo di differenza che abbiamo, non solo in altezza ma specialmente in larghezza. Ve li metto anche in pianta per far vedere lo spessore, è chiaro che lo spessore è differente perché qui abbiamo quasi il medesimo spessore, però quando è chiaramente chiuso si va a raddoppiare. Ve lo vado ad aprire così faccio vedere anche guardate lo spessore quando è aperto devo dire è anche più sottile il Fold. Per quanto riguarda il peso è chiaro che si fa sentire sul Fold abbiamo un peso maggiore ma quando lo si apre ragazzi non si sente più il peso, è talmente ben bilanciato, nel frattempo faccio anche vedere il sensore, ah no ok l'ho provato tante volte perché adesso l'ho provato a spingere più volte quando lo stavo utilizzando adesso che l'ho diciamo mosso un po', abbiamo due possibilità di settare il sensore, sia che il sensore va a sbloccare non appena lo poggiamo, poggiamo il dito, oppure come l'ho settato io adesso quando lo andiamo a spingere si va a sbloccare lo schermo, si va a sbloccare e quindi non fa tentativi a vuoto. Devo dire molto molto buona come cosa perché rispetto per esempio al più recente Sony che avevo provato il sensore non aveva questa funzione e ogni volta che lo andava a toccare lui andava a testare a provare a fare lo sblocco e quindi dopo un po' si andava a bloccare, non lo vedevamo più sbloccare e dovevamo per forza utilizzare il segno, invece in questo caso devo dire ottimo lavoro di Samsung. Come dicevo una volta che si va ad aprire il peso non si sente più, è talmente ben bilanciato che devo dire è molto molto bello da utilizzare, adesso io ve lo posso dire per questi diciamo 5 minuti che l'ho potuto settare e l'ho potuto provare, scusatemi ho un po' di tosse, comunque in questi 5 minuti devo dire mi ha fatto davvero una bellissima impressione. Abbiamo chiaramente tutta la One UI all'interno con tutte le varie funzioni che non sarò qui adesso a farvele vedere tutte perché comunque non è questa qui la cosa che interessa adesso su quest'anteprima di questo telefono ma interessa il sistema di apertura. Guardate qui che sistema di apertura. Devo dire che Samsung quest'anno si è migliorata notevolmente ancora una volta per aver modificato e per aver migliorato al meglio questo sistema. La curva si ok, si vede in contro luce, si sente un pochino però una volta che ci fate la mano ragazzi non penso che può dare fastidio. Io l'ho potuto utilizzare non solo adesso ma anche in Samsung in sede e non è che quando ci si passa dà molto fastidio anche con lo swipe, con lo slide. Vi farò adesso vedere anche un breve video da qualche parte, vediamo qui su YouTube, andiamo subito ad aprire, non so mettiamo questo, uno a caso. la andiamo a settare a tutto schermo e guardate qui, è chiaro che le bande si vanno a vedere perché abbiamo un diciamo quasi un 4 terzi quindi le bande sopra e sotto ce l'abbiamo ma sentite l'audio. Beh devo dire che si sente molto bene, una cosa che ho fatto caso adesso in questi 5 minuti che lo sto provando e mi è capitato di andare a far partire un video un po' non ce la faccio più proprio perché volevo provarlo. Le casse audio si trovano entrambi da questa parte sia qui che da questa parte quindi sulla parte sinistra sul lato diciamo superiore quando lo andiamo a chiudere e l'unica cosa che ho fatto caso è che se l'ho girato in questa maniera non solo la fotocamera anteriore, vi faccio rivedere il video, può dare fastidio perché entra nel video e abbasso un po' il volume però il volume stesso quando lo andiamo a prendere si va a otturare quindi diciamo che per comodità secondo me vi conviene girare da quest'altra parte così in modo che le casse ce le avete nella parte alta. Comunque è veramente una goduria utilizzare uno schermo così grande con uno smartphone del genere. Ok non è enorme, molti l'hanno criticato adesso che ho visto qualche recensione e qualche anteprima sul fatto che lo schermo non è così grande ma non è neanche così piccolo. Sì questo è vero ma secondo me è una dimensione che sicuramente nel tempo adesso si può andare ad aggiustare, si può andare a migliorare il rapporto di forma ma secondo me questa qui è una dimensione giusta per poterlo utilizzare tutti i giorni perché questo qui deve essere uno schermo che sia ok quando si apre si deve godere appieno di uno schermo un po' più grande però secondo me non deve essere neanche così tanto grande da diciamo essere poi difficile nell'utilizzo quotidiano. Per esempio andiamo a scrivere una cosa e vedete la tastiera si può mettere sia switchata in questo modo oppure del tutto unita. Io adesso ok ho le mani un po' più grandi però comunque con anche una tastiera unita diciamo unica senza essere switchata comunque si riesce a scrivere e con una tastiera piccola switchata in questa maniera è chiaro che si va a scrivere ancora meglio ma non è così grande che può dare fastidio. Io per esempio con questa tastiera delle volte non mi ci trovo sui tablet quelli da 16 noni, quelli più grandi perché diciamo che l'occhio va da una parte a un'altra e non riesce sempre a scrivere molto velocemente diciamo che delle volte mi ha dato fastidio infatti in molti casi vado a scrivere con una mano o con due mani perché abbiamo un display più grande. Ho fatto caso anche per esempio che per la lettura è l'ideale. Ho utilizzato subito, ho provato al volo Amazon Kindle e guardate abbiamo diciamo una grandezza ideale giusta di un Kindle quasi e di un lettore di un ebook reader per leggere quando vogliamo i libri quindi portare con noi solamente il telefono che funge da telefono, da tablet e anche da ebook reader. Quindi ecco perché mi ha sorpreso. Devo dire poi sono rimasto colpito non solo dal design perché è molto curato. Ok il peso quando è chiuso un pochino più si fa sentire ma sono rimasto colpito dalla cura dei dettagli e soprattutto dal senso di solidità che dà questo smartphone. Quando lo aprite in mano e quando anche l'aprite non vi dà quella sensazione di dispositivo un po' traballante che si può spaccare e che si può rompere. Chiaramente nella piegatura dovete comunque stare attenti perché è un pieghevole però ragazzi devo dire ha fatto davvero un bellissimo lavoro. Nella parte anteriore mi sono scordato di dirvi sia quella interna che su quella interna andiamo a trovare altre due fotocamere che sono da 10 megapixel con f 2.2. Internamente una batteria da ben 4500 mAh che adesso andremo a vedere come si comporta ma secondo me si comporterà sicuramente molto bene perché all'interno abbiamo finalmente almeno su questo ZA2 Fold cosa che mi sta facendo un po' pentire il Note 20 anche se si sta aggiustando abbiamo finalmente uno Snapdragon 865 Plus GPU Adreno 650 e abbiamo l'unica versione in due colorazioni questa qui è la Mystic Black e poi abbiamo la Mystic Bronze come tutti sicuramente voi saprete. Abbiamo l'unica versione da 12 256 giga di ROM quindi 12 giga di RAM. Esternamente abbiamo questo display che è da 6.2 pollici vi do qualche informazione al volo tanto per farvi avere un'idea per tutti loro che non lo sanno Super AMOLED mentre internamente abbiamo un display da 7.6 pollici 442 ppi diciamo qualche informazione l'ho presa tanto per farvi avere un'idea anche a voi da questa anteprima. Vi vado un po' a far vedere come funziona il telefono o comunque lo smartphone il tablet perché funziona egregiamente ho fatto solamente caso una cosa quando andiamo ad aprire Instagram. Instagram è una delle poche applicazioni che non può essere forzata da tutto schermo e quindi rimane in questa maniera in verticale e quando invece andiamo a chiudere e l'andiamo ad aprire sul display esterno nel frattempo state vedendo quanto è veloce il sensore di impronte. L'andiamo a vedere in questa maniera guardate vedete è un pochino più stretto. Delle volte all'inizio vi richiede che Instagram è una di quelle applicazioni che deve essere ravviata quando si va ad aprire sul display esterno. Adesso non mi appare più perché ho detto di non farmela apparire più ho dato ok ravvia ogni volta perché in pratica è uno schermo un po' più stretto della maggior parte dei display che siamo abituati oggi a vedere sui smartphone e quindi applicazioni di questo genere devono essere diciamo un po' tra virgolette riformattate per questo display. Poi quando andiamo ad aprire è chiaro che si va a vedere bene a tutta grandezza. Abbiamo poi tutte le varie funzionalità che poi andremo a vedere nella recensione completa che possono essere poi utilizzate con la camera e con tante altre applicazioni. Per esempio quando andiamo a piegare abbiamo qui la galleria delle immagini e qui invece la fotocamera con tutti i controlli da questa parte cosa interessantissima. Poi nella fotocamera abbiamo anche la possibilità di andare a switchare sullo schermo posteriore e quindi andare a riprendere con le camere posteriori ma vedere dallo schermo esterno quindi ci sono tante diverse funzionalità. Una cosa che mi hanno fatto notare alcuni amici che l'hanno già provato è che quando siamo in questa funzione quindi con lo schermo esterno messo così non c'è tanta possibilità di scattare. Diciamo rimane un po' difficile e io vi dico una cosa vi do un piccolo consiglio che l'ho potuto provare testare ben prima. Quando utilizzate questa basta che alzate la mano in questa maniera e lui partirà il timer che farà scattare la fotocamera perché c'è una funzione all'interno della fotocamera dei Samsung che permette di far scattare una foto non appena aprite la mano lui fa partire il timer quindi è una cosa che secondo me diventa ancora più utile in questo caso con questo tipo di funzione. Comunque qui possiamo andare a switchare qui abbiamo la ultra grande angolare la grande angolare e lo zoom che è 2x e poi abbiamo le classiche modalità di scatto che poi vi farò vedere anche poi nella recensione completa in maniera un po' più profondita e vi saprò dire anche meglio su come scatta questo smartphone mi raccomando poi su Instagram seguitemi perché vi posterò le varie diciamo confronti fotografici fra questo il Note 20 l'iPhone o anche Sony quindi avrò modo di postarvi vari tipi di confronti fotografici e diciamo che per ora è uno smartphone che mi è piaciuto tanto ragazzi mi sta piacendo tanto da questi 5-10 minuti che l'ho potuto utilizzare anche a livello di settarlo e di giocarci un po' ragazzi è davvero un bel dispositivo è chiaro anche il display esterno è abbastanza stretto infatti guardate qui le icone la grida dell'icone si fa per 4 mentre sotto abbiamo solamente la possibilità per 5 ma comunque è un po' più stretto la cosa che ho fatto caso invece attualmente adesso al volo quando lo sono andato a settare è che i due display le due home quella esterna e quella interna sono diciamo per così dire indipendenti perché quando sono andato a settare la home diciamo interna non me l'ha settata uguale quella esterna anche il wallpaper quando sono andato a settare questo wallpaper in quella interna non me l'ha settato su questa qui esterna ho dovuto risettarlo anche in questa maniera anche in questo caso è una cosa un po' macchinosa però alla fine ci si fa la mano nulla di che comunque ragazzi per questa breve anteprima è tutto anzi io ve li metto ancora a fianco per far vedere anche un po' le differenze perché poi le colorazioni sono queste e qui non c'è il bianco ma il nero del Note 20 è in pratica questo nero questo Mystic Black di questo Z2 Fold a livello di usabilità adesso che lo sto utilizzando un po' per andare a chiudere e per concludere un po' quest'anteprima devo dire che si fa sentire il peso come stavo dicendo ma è molto utilizzabile con una mano questo ok perché il display è talmente sì ok alto ma stretto guardate qui come si utilizza bene ah una cosa che non vi ho fatto vedere la tastiera esterna tastiera esterna che è più stretta sì ma quando l'ha andata ad alzare un pochino devo dire che ci si scrive bene poi è intelligente prende subito è molto veloce è diciamo reattiva quindi non ho trovato grandi difficoltà sotto questo aspetto e poi per il resto ragazzi ci vediamo la recensione completa perché vi saprò dire meglio un po' tutte le funzionalità che porta questo dispositivo e cosa lo differenzia e soprattutto come si utilizza e quanto potrebbe essere utile o non utile questo schermo così grande nell'utilizzo quotidiano poi qui abbiamo chiaramente tutte le varie diciamo impostazioni collegamenti task possiamo utilizzare anche due applicazioni in questa maniera adesso sinceramente penso che si fa così e poi penso così e l'andiamo a settare io adesso diciamo che ci sto giocando per la prima volta insieme a voi con il dual screen perché ancora ci devo fare la mano possiamo anche buttare in questa maniera la terza applicazione oppure penso che si possa andare a settare qui da questa parte vedete quindi potete utilizzare tre applicazioni divise in questa maniera e in più la quarta non so se fa settare la quarta proviamo sì la quarta anche qui fuori questa qui è chiaro non la possiamo andare a mettere in griglia vedete si va a sostituire con questa oppure possiamo fare uno switch quindi un dispositivo ragazzi secondo me molto molto flessibile adesso poi nella recensione come vi stavo dicendo prima vi dirò quanto e se è utile un display di questo genere così diciamo di queste dimensioni con uno smartphone di questo tipo ricordo che il prezzo è 2049 euro non c'è un bundle non c'è un kit quindi quando lo ordinate non vi esce nessun tipo di accessorio in più per esempio con notte io ho potuto prendere e richiedere le cuffie le buds life che a breve arriverà alla recensione gratuitamente purtroppo me l'hanno mandato di questo colore invece con questo non c'è nessun tipo di promozione però avete un premier service in pratica è un concierge e un'assistenza dedicata per tutti loro che prendono il Fold 2 quindi avete diciamo un'assistenza per urti o comunque guasti danni per display interno e un tipo di concierge dedicato solamente a chi acquista questo tipo di device comunque ragazzi come stavo dicendo prima ed è vero concludiamo qui questa anteprima di questo ZA2 Fold noi ci vediamo alla prossima video recensione soprattutto alla recensione completa di questo interessantissimo pieghevole se avete qualche domanda qualche dubbio che volete farmi o qualcosa di cui vi posso parlare nella recensione completa mi raccomando scrivetemelo qui sotto oppure lo sapete me lo potete sempre chiedere su Instagram o su tutti gli atti canali social che vi lascio chiaramente il link qui sotto in descrizione se vi è piaciuto questa anteprima e questo video mi raccomando un bel like mi fa sempre molto piacere e poi mi raccomando iscrivetevi qui sul canale di YouTube accendete la campanina qui sotto delle notifiche e il pulsantino rosso per sapere sempre quando sono stati carità di nuovi video da Per Giorgio, Times Gadget, buona giornata a tutti e grazie ancora Per Giorgio, Times Gadget Grazie a tutti